Prima avevano il braccino e ubbidivano alle richieste di Bruxelles, è un motivo in più per tirare avanti, dritti come treni, una manovra che vuole far crescere, meno tasse, più lavoro, più pensioni, più diritto alla salute, più diritto allo studio. Quindi lo dico agli amici di Bruxelles, anche qua, da Doha, dal cuore del golfo dei paesi arabi, voi scrivete letterine, noi che siamo educati rispondiamo alle letterine, c'è voglia di crescere, c'è voglia di taglia, c'è voglia di lavoro, c'è voglia di serenità e sicurezza. Quindi adesso vado perché abbiamo altri incontri importanti dal punto di vista del business, della sicurezza.